A1 per traffico intenso Un'uscita di Lucca Esti in entrambe le direzioni ai mezzi pesanti fino al 5 di novembre. Sulla FIPILI in direzione Firenze per un veicolo in avaria, code tra Navacchio e Cascina per traffico intenso, rallentamenti tra Scandici e Firenze e Scandici. In direzione Mare per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'Asra Assegna. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!